Sono felice restare in Rai e lavoro serenamente con l'amministratore delegato al prossimo Sanremo Parola di Amadeus, che ha chiamato Fiorello in diretta durante la puntata Viva Rai 2. Dopo la etta lanciata qualche giorno fa da Fiorello, che aveva raccontato dei dubbi dell'amico sulla possibilità di condurre il prossimo festival, poi disinnescati dallo stesso showman, oggi è lo stesso Amadeus che sgombera il campo da speculazioni al riguardo. Tu rimani in Rai, non c'è nessuno che ti vuole epurare? Gli chiese Fiore. Nessuno, nessuno, sono felice di restare, è stata la risposta di Amadeus, che ha annunciato Verrò a trovarti domani mattina 9 per l'ultima puntata. Ancora Fiorello sono uscite tante voci, di cui non abbiamo parlato per non creare eccessive polemiche, su qualcuno che avrebbe controllato le tue scelte musicali. Non ci sono agenti segreti che controllano nulla, ribatte Amadeus. Diciamo che Amadeus ha totale libertà di scelta, ha commentato lo showman. Assolutamente, la risposta di Amake ha concluso è da tempo che lavoriamo serenamente con l'amministratore delegato, con tutta la Rai.